La nuova giunta comunale presentata ieri dal sindaco Pierluigi Biondi non calma le acque in casa centrodestra. La maretta resta, il caos investe soprattutto il gruppo consigliare insieme per l'Aquila che fa riferimento affitto. Con il suo capogruppo Roberto Junior Silvelli che questa mattina si è dimesso per confluire nel nascente gruppo misto sconforto, smarrimento, sfiducia e delusione nei confronti soprattutto del mandato elettorale. Un metodo, quello scelto dal sindaco, di un uomo solo al comando che non ammette confronti. Così descrive il quadro politico in cui si trova oggi l'amministrazione cittadina, l'ex capogruppo d'insieme per l'Aquila Junior Silvelli. La mia è una posizione di apertura totale e collaborazione a quella che è la parte della maggioranza. Il problema è che questa nuova giunta che a me oggi non rappresenta, perché non è di mia espressione, deve in qualche maniera guadagnarsi sul campo la mia fiducia. Una volta chiaramente guadagnata sul campo quella fiducia allora potremo aprire una collaborazione. Tutto quello che esce dal lavoro del nuovo governo cittadino andrò a valutarlo con la massima attenzione del caso e valuterò atto per atto. Lei ha detto che è una giunta composta da buoni consulenti che non sono però espressione del voto. Assolutamente sì. Questa è una squadra formidabile, però in minima parte politica. Una gran parte invece è tecnica e quindi fanno comunque riferimento al sindaco. È come se la parte politica fosse il sindaco e loro ottimi consulenti. Mal di pancia anche in casa forzista con il coordinatore regionale, il senatore Nazario Pagano, che ieri ha definito giunto al capolino il rapporto di fiducia tra Forza Italia e il sindaco Biondi. Perché nonostante il sostegno che gli azzurri hanno fornito per la sua elezione con sette consiglieri eletti, dice Pagano, ha deciso di escludere la partecipazione di esponenti forzisti dal governo della città. A fargli eco anche l'ex assessora alla cultura Sabrina Di Cosimo in un posto di fuoco pubblicato ieri sul suo profilo Facebook. Ma non resta chiaro a nome di chi parli Pagano se da un lato infatti il deputato azzurro Antonio Martino ribadisce di non condividere la scelta del sindaco Biondi ma di rispettarla. Dall'altro lato anche il presidente del Consiglio Comunale, Roberto Tinari, conferma fiducia al sindaco e resta saldo al suo posto. Io credo che la maggioranza sia composta da tutte persone responsabili e ci sarà modo e maniera per cercare di incontrarci e cercare di trovare la guardia di tutto.